Il turismo era il settore economico che prima del sisma meglio stava funzionando nell'area interna della nostra regione, anche in quelle interessate. Di fronte a tanti segni meno era un segno più evidente, chiaro, di una missione tutta da sviluppare, da crescere, per la bellezza del paesaggio, per quello che offre, per quello che siamo in grado di dare a chi vive nel nostro territorio. Ripartire dal turismo è un fatto importante, nel momento di massima difficoltà decidere di puntare su questo settore. Ripartendo appunto in un'attività che mira un turismo di alta fascia all'utilizzo delle strutture più belle, le ville più affascinanti del territorio che i proprietari mettono a disposizione dentro questo percorso, ma di fatto rilanciando l'intero sistema, perché nel momento in cui si diventa attrattivi sull'alta fascia, poi in generale si crea un interesse per la nostra regione. Noi crediamo che chi ha fatto questa scelta ha reagito molto bene alle difficoltà del sisma, sta avendo dei buoni risultati, noi facciamo un grande bocca al lupo per la crescita del futuro, sicuro che questo elemento di traino possa servire l'intero sistema. Molto qualificato, molto elevato, molto elevato.